Un uomo e suo figlio, escursionisti, stavano esplorando il parco nazionale dello Yandleston il 14 luglio. Trovavano nella foresta un cellulare abbandonato. Degna di nota era l'ultima foto scattata dal cellulare, scattata dai notti, e si poteva vedere chiaramente, anche se la foto aveva degli errori causati da un qualche glitch o danno, che qualcosa di sinistro si aggirava nella foresta del parco. Stare nell'universo SCP? Cosa succederebbe? Quindi salve a tutti. Allora, so che Siren Head non è parte dell'universo SCP in alcun modo, ma mi è venuta in mente una domanda. Cosa succederebbe se Siren Head fosse nell'universo SCP? Lo scopriremo, insomma, scopriamo. Ma non in questo video. In questo video voglio, io introdurrò Siren Head. Il video su come sarebbe nell'universo SCP, Siren, le cose si succederebbe, bla bla bla, sarà futuro. Sarà, diciamo, la seconda parte. Cosa è Siren Head? Siren Head è la creazione più famosa dell'artista americano Trevor Anderson. Siren Head è un'entità umanoide, alta circa 12 metri. È quasi scheletrico per quanto riguarda la sua muscolatura, ricoperto da carne siccata e carne mummificata, con un colore simile a metallo arrugginito. Siren Head ha al posto della testa un paio di sirene, con all'interno le sue bocche. Con esse riesce a produrre suoni naturali e suoni dell'uomo, come per esempio voci o trasmissioni radiofoniche. Quali sono le abilità di Siren Head? Ovviamente una manipolazione del suono. Siren Head ha ucciso alcune delle sue prede facendogli esplodere i timpani. È molto potente, potendo abbattere gli alberi. Può rapire un'intera famiglia statunitense di quattro membri in una volta. Siren Head è anche difficile da notare. Riesce a mimetizzarsi perfettamente con la foresta. Riesce anche a collegarsi ai cavi per sembrare un semplice palo. Resta fermo per giorni per mimetizzarsi. Quando si muove non produce quasi rumore. Siren Head riesce anche a essere molto veloce, stando dietro ad un'auto. Siren Head ha anche la capacità di cambiare il suo aspetto. Cambiare la sua testa con sirene e lampioni funzionanti. Una volta Siren Head si è finito un pezzo di arredo o parte della casa di una famiglia, ora scomparsa. Di fatto, se andate a vedere, ci sono certe immagini con Siren Head che ha più sirene, per esempio. O Siren Head che ha un lampione, in quel caso, veniva definito un tempo Light Head. Si pensava fosse una creatura diversa. Invece, sembra di no. In teoria non sappiamo se questa, comunque, Light Head o comunque queste varie versioni sia una sottospecie o un cambiamento. Però diciamo che intanto questa è un'abilità di Siren Head, quella di cambiare. Quindi, probabilmente, non sono sottospecie. E inoltre, c'è da dire che Trevor Anderson ha anche detto che non gli piace tanto comunque l'idea di Siren Head come una specie. Però, non possiamo sapere. Siren Head, tramite la sua abilità di trasformazione, riesce sempre ad avere una qualche sorta di travestimento. Si adatta molto facilmente agli ambienti e riesce anche a trasformare le sue vittime prima in corpi mummificati e poi in altri Siren Head. Siren Head può anche cambiare le sue dimensioni, che solitamente vanno dai 12 ai 30 metri di altezza, con il massimo essere 95 metri di altezza. L'essere preferisce cacciare in aree campagnole e in aree boschive, attirando la preda con voci dei loro cari o producendo suoni della natura circostante per cullare la preda in uno stato di tranquillità. Siren Head, anche se si dice cacci per sport, sembra almeno qualche volta cacciare per mangiare. Il primo avvistamento moderno di Siren Head è stato nel 1966. Informazioni che la fondazione censurerebbe, ovviamente. 1900 censurato scriverebbe, ovviamente, molto probabilmente, se Siren Head finisse nell'universo SCP in qualche modo. Ovviamente non succederà mai. Ma quello è un dettaglio, ne parleremo semmai nel video dedicato a cosa succederebbe se lui fosse nell'universo SCP, anche se non è. In ogni caso, da una famiglia in vacanza nel deserto dell'Arizona è stato avvistato. Nel 1995, nei boschi di Tanyard Creek, il 16 di luglio, un signore di nome Chad e i suoi amici sono stati attaccati da Siren ed è l'unico supertizio che è stato appunto Chad. Ci sono stati 13 avvistamenti dell'entità in totale, nel 20 giugno, o meglio, confermati. Nel 20 giugno 2010, a Chicago, varie persone hanno chiamato il CPD, poiché si sentiva una sirena antitornado. L'origine non è stata determinata. Il 28 agosto 2018, in Austria, si è sentito un suono. Durante le ricerche sono state trovate due tende, abbandonate due persone, che da quel giorno sono dichiarate scomparse. Ora sentiamo i suoni. Ovviamente, prima quello della sirena antitornado e poi quello in Austria. Alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.